Ma a voi che le guidate, perché se non c'è il vostro buonsenso e la vostra prudenza, non c'è benedizione che tenga. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri delitti. Come noi li rimettiamo ai nostri delitti e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.